Karen Bursin in palestra oltre alla bravura nella recitazione Karen Bursin è anche un bellissimo ragazzo che si prende cura del suo corpo. Infatti, il protagonista maschile di Love Is It Derne negli ultimi tempi sta crescendo la sua massa muscolare. A testimoniarlo non stato è lui stesso, ma attraverso delle foto che sono apparse sui social. Nello specifico, il compagno di Undersell è molto riservato in tal senso, tuttavia il profilo Instagram Matchbox Fitness, la palestra dove il divo turco si allena ha postato delle foto di quest'ultimo mentre è intento a fare degli esercizi fisici. Continua dopo le foto, il prossimo impegno a New York è, sotto gli occhi di tutti che Karen Bursin ha un bel fisico anche se negli ultimi tempi l'attore di Istanbul sta disertando gli esercizi fisici, anche in vista dei suoi progetti lavorativi negli Stati Uniti. Infatti, molto presto il protagonista di Love Is It Derne si trasferirà con la sua amata Undersell per qualche mese. I due innamorati andranno in America perché sarà impegnato in una serie targata Disney+. Al momento non sappiamo ancora che tipo di ruolo dovrà sostenere il vivo, ma sicuramente con questa preparazione fisica niente può spaventarlo. Kerem Bursin e il suo ruolo nella serie TV Buser Arkandan Gelecek Kerem Bursin nella serie TV turca che lo ha visto protagonista quattro anni fa dal titolo Buser Arkandan Gelecek e tradotto vuol dire, questa città ti seguirà. In quella circostanza interpretava il ruolo di un boxer. Per interpretare quel ruolo, il compagno di Undersell si sottoponeva ad un allenamento adotto proprio su questo tipo di sport. Nella serie in questione il divo di Istanbul interpreta Ali Smith, un ragazzo orfano cresciuto sulle navi mercantili, che si avvicina alla boxe e cambierà la sua esistenza per sempre. Oltre allo sport, il protagonista di Love Is It Derne ha la passione per la fotografia in bianco e nero con la Leica. Oltre allo sport, il protagonista di Love Is It Derne ha la passione per la fotografia in bianco. Oltre allo sport, il protagonista di Love Is It Derne ha la passione per la fotografia in bianco.